Legittimare l'occupazione russa in Crimea e promuovere politiche promosche in Europa, questo l'obiettivo dell'International Agency for Current Policy, realtà guidata dal parlamentare russo Sargis Mirzakhanian, la cui attività è stata svelata da un'inchiesta giornalistica internazionale, complici migliaia di mail che dovevano rimanere riservate e che conterrebbero invece le prove di come i lobbysti russi intendessero pagare i politici, con tanto di onorari e budget per piani di viaggio, compresi i soggiorni in resort a 5 stelle sulle rive del Mar Nero. È in questa fitta corrispondenza che emergerebbe con forza il nome del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, già assessore regionale e oggi nelle file della maggioranza Palazzo Ferrofini, sarebbe stato lui il principale referente politico dell'agenzia russa non solo in Veneto ma in tutta Italia. Accanto a quello di Valdegamberi anche i nomi di Paolo Tosato, senatore leghista veronese e già consigliere regionale e di Roberto Ciambetti, anche lui leghista e attuale presidente del consiglio regionale. Nel materiale raccolto dal PUN investigativo va detto non risultano documenti finanziari o estratti conto capaci di dimostrare che i pagamenti siano stati effettuati, semmai l'evidenza di una relazione costante nel tempo e che avrebbe portato nel maggio 2016 il consiglio regionale del Veneto, primo in Italia, ad adottare una risoluzione a firma Valdegamberi per l'autodeterminazione della Crimea, tesa a far togliere le sanzioni alla Russia decise dalla comunità internazionale a seguito dell'invasione della penisola ucraina da parte del Cremlino. Sull'esempio Veneto si mossero poi Lombardia e Liguria, tutti i provvedimenti che ebbero un effetto tonificante per la propaganda di Mosca. Nell'inchiesta giornalistica finisce sotto la lente anche la visita della delegazione veneta in Crimea dell'ottobre 2016 quando si siglò un protocollo di cooperazione fra Veneto e governo locale filorusso, presenti Ciambetti e lo stesso Valdegamberi. Per Stefano Valdegamberi il risultato del viaggio non è stato puramente di pubbliche relazioni, si legge nell'inchiesta pubblicata in Italia da IRPI, ma l'organizzazione di contatti promettenti per iniziative imprenditoriali che pagano le sue campagne elettorali e sostengono la sua attività politica. Parole pesantissime contenute in una mail inviata da un collaboratore al parlamentare russo, ma appunto da dimostrare, così come l'attribuzione allo stesso Valdegamberi di una somma da parte dell'agenzia russa di 3.000 euro. Da quello che ho letto la persona più coinvolta è il collega Valdegamberi, però il ruolo istituzionale di Roberto Ciambetti credo lo coinvolga e richieda veramente di chiarire e dare massima trasparenza ad ogni possibile coinvolgimento. Valdegamberi poche ore prima della diffusione dell'inchiesta ha pubblicato un post sui suoi social anticipando la propria presenza al sit-in Il Popolo non vuole la vostra guerra in Piazza Braverona. Scommettiamo che la mia partecipazione a questo evento provocherà un attacco mediatico nei miei confronti nei prossimi giorni, preparato all'estero e consegnato ai media italiani incompiacenti. Prendete nota di questo post, dice Valdegamberi. Insomma, gli elementi per un'altra tempesta, perlomeno politica, ci sono tutti. Se io fossi il presidente Zaia chiederei alle persone del mio gruppo di chiarire e di dare massima trasparenza ad ogni punto, perché io penso che le persone che li hanno votati debbano avere chiarezza e debbano togliersi qualsiasi dubbio in merito a vicinanze che dal punto di vista politico non sono oggi giustificabili.